o inscrivo inscrizione lo stesso basso la sabbia no perchè sto cambiando il coso nello ma il naso tutto di un po' non posso non scelto non lo stanno il pubblico questo adesso cos'è l'anno l'alba 1 aspetta no lagga no lagga no lagga tanto mmm un po' gattino non troppo diciamo da gattattino e vediamo un po' questo cerchiamo da gattattattino vediamo un po' questo cerchiamo da gattattattino che 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 non si tratta la sua pagina aperta ok scrivo 2 utomo i due punti perchè non me ne dà la tastiera di non può mettere agente di essere giusto se mette in url no no devo andare 2.1.1.1 ma no a conto del mio mondo il nuovo nuovo sporo il posto se tu guarda mo se è vero si meglio ma ma cos'è vero al suo limone ma non me lo ecce ma molto ovviamente mi sa che penso sia volo a guardare la fonte subito e se non metti solo la gamma tua uo diciamo che basta anche solo quello che vuole scrivere ciascuno gioco provo a togliere federico e lasciare web no no, immagini scelto ross se non basta la risulta risoluzione di del game play quanto sta non so non è quello è il computer del suo problema ricordi aver meglio via sensibili cose che la webcam la tua webcam la conta come e stavolo male come la vermenia un po' ricavista che sta smettendo invidio si meno potente non è che sta smettendo invidio si si xd 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 4.000 quelli che vanno pure la per questo con la funzione non c'è ... ... ... ... ... conti gravidin ma così la non si può se io levo chiudere anche moda il pt da monti da un sacco stasera cosa vuole volare a testo posto ora si devo un po' aspetta, aspetta una cosa no no, l'ho tolta aspetta un attimo lo schermo no, si chiudo a cosa cosa si buonime come si vede un momento io ho tutto quanto va tutto bene no, ma da ancora che stai offline aspetta molto bene mi sa che sto sempre offline vabbè che diretti 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 attiva aspetta 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 a lusia o d 1 il 2 2 2 3 3 2 5 i 5 il testo di questo senso c'è un posto perché non è che ti chiesto il mio avvento musulmano la domanda aspetta un attimo aspetta non ho la domanda la domenica il marco 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 non si 3 i tuoi 6 6 il conto dovrebbe essere così in un altro mondo in un'altra parte di tutti gli attivati da subito quanti cos'è la scuola l'antilist perché evidentemente la amo se la libera evidentemente la troppo grande copiare con la ciotola in un po' spettola misoglietta stato presente scuola di destra è finito tigre no un po non vai vai sì no finisci finisci vabbè se non è quello che si è scritto non è certo no a bordo del mondo tra cazzo no 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 ma poi leggi tutti gli iscritti o leggi dove l'ultimo di servizio scritto scusa bu ma che ci metti la mania di nato su su dove la sottola parte sono scritto io solo le donazioni e basta tutta la striscia con solo azione sono tre nomi e maria ci mettono 3 ora la scuola di tutte quante per me dovresti farlo di nuovo vedito sono tra le due gamma aspettate aspettate questa spiglietta per la finestra non è meglio mettere tipo non è meglio mettere tipo ah tu stai avrei tu stai avrei ma a me che modifiche cose si certo e allora vedi quanto ci mette quanto è lungo il coso per le descrizioni aspetta aspetta ripeti tu guarda il coso per le descrizioni guarda come gira guarda quando so tre nomi necpan necpan e enzo no enrico no enzo volte sono finiti se li cominci però qual'è il fatto che ci stanno in una volta qual'è il fatto filtro ok filtri che ha il colore ok red blu no personalizza colore bel colore 00 a 0 ff 00 a 0 ff aspetta aspetta me d'accordo se soppri no 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 inizio a me non mi dà che gioco va bene così sì diciamo ciao intanto tutto gioco mamma 78% che regoli io ero 79 che l'avecceso perché ho fatto un po' subito 73 si va madonna come invece le gambe le gambe è un fenomeno 5,86 voi fanno andare 71 a scena troppi se non forse la serie ma che ne so ma che 70 insult quanto c'è di forza 90 90 90 gerson 59 scompasso 95 sbagliato sono 80 non sceso che ciò dove è è il ma non non è gioco l'ho già un po' sono dei anni sono salete un po' due o due o due o due o due e' no vabbè, guarda quanto vuoi quando sfumare e' non ti vedi, non è compiuto e non legge il programma non legge? non mi regge il programma dici una basta di avanza per forza, non lo metto in alto a destra, lo metto c'è anche un'azione vabbè, vabbè si, si va se non fosse così se non è un po' se non è un po'